Devo entrare in un argomento che è utile che io affronti perché riguarda la semplicità o meno delle cose che io dico. Infatti uno dei miei contestatori, affezionato Giovanni Bizzotto, mi ha scritto in questi termini su un tweet. Dice, peccato romano che le tue molteplici teorie siano pochi i fortunati che le capiscono, sei lungo e complicato. Ecco questo è l'argomento. Mi fa piacere che Giovanni Bizzotto abbia anticipato il tutto dicendo peccato romano. In effetti è un peccato se io che scrivo cose che sono destinate alla salute morale delle persone non sia poi semplice al punto tale che io possa essere capito e dunque possa essere secondo l'utilità che io desidero. L'accusa è che i miei video sono lunghissimi e sono complicati. Ecco caro Giovanni Bizzotto, io posso essere assai semplice, sostenendo che la vera vita non è questa. Dopodiché interrompere il mio video, ma dimmi se io faccio un video proprio semplice semplice che finisce qui. Affermo che la vera vita non è questa. Cosa credi che Giovi questo enunciato annulla? A meno che io non dimostri che la vera vita non sia questa. Lo posso sostenere sulla base di un grande personaggio divino che è stato tra di noi, Gesù Cristo, che ha sostenuto che questa vita deve essere spesa interamente per l'altra, che è necessario qui abbassarsi, perché nella vita eterna Dio ti alzerà di tanto quanto ti sarai abbassato. Ma cosa avrò fatto o farei io di particolare? Farei cassa di risonanza neanche tanto valida, perché aggiungerei ai pensieri originali di Gesù dei miei pensieri con i quali io rischierei addirittura di degradare quello che ha detto Gesù, come è accaduto in duemila anni in cui a un certo punto l'uomo è arrivato talmente a non capire il discorso di Gesù che nel nome di Gesù si sono combattute guerre, si sono messi sul rogo delle povere persone accusate di essere streghe, e nei giorni del massimo dominio di Satana nella Chiesa, in quel giorno lì, c'era la santa, che secondo me non è la santa, ma la diabolica inquisizione, che aveva la pretesa di togliere dal mondo coloro che non avevano fede in Gesù. Ecco il bel risultato del Vangelo di Gesù, quando qualcuno si permette di aggiungere la sua interpretazione. Ecco, non è questo che va fatto, va spiegato il Vangelo di Gesù sulla base delle ragioni che l'uomo conosce ormai, essere vere ragioni, perché sperimentate vere da quella scienza che ha compiuto una grande opera di scoperta della verità. sembra opera dell'uomo, ma non è opera dell'uomo. Si fa tanto fatica a capire che questo mondo reale è creato da Dio? Direi no. Allora, com'è un disegno quando è creato da uno? Uno qualunque, non occorre che sia Dio. Com'è un disegno quando è creato da uno? Che disegno? Una storia. è una storia in un libro giallo. Com'è? C'è un creatore, il quale sul libro giallo che scrive non compare mai, ma fa agire, inventati totalmente da lui, tutta una serie di personaggi che sono descritti e fatti per filo e per segno dallo scrittore del romanzo giallo. Nel romanzo giallo non c'è nemmeno una virgola che non sia stata scritta di pugno del creatore. Ecco, questa è una creazione. Tipo, totale, perché in questo libro giallo scritto dallo scrittore, lo scrittore rappresenta il Dio di questo contesto, di questa storia reale che esiste così come il suo Dio relativo l'ha voluta. Ora, si fa fatica a capire una cosa così? Sono complicato? Direi di no. Allora, io vi ho semplicemente raccontato della capacità umana che ha un creatore umano nei confronti della sua storia. Secondo voi, Dio onnipotente è perlomeno capace nei confronti della sua storia? Come lo è questo piccolo creatore umano? Ossia, il mondo creato da Dio? Ha un creatore che perlomeno è simile a questo? Allora, se lo è, se il creatore divino del nostro mondo reale ha almeno il potere che ha lo scrittore di un libro giallo nel suo libro giallo, non si può credere che la nostra vita che sembra fatta da noi sia fatta da noi, che i nostri pensieri che sembrino pensati da noi siano pensati da noi, che tutta la storia che ci riguarda sia opera nostra, nemmeno in un frammento piccolissimo, non si può. Perché? Immaginare che il nostro creatore non abbia questo dominio totale sulla esistenza del mondo creato da lui, implicherebbe che il nostro creatore, nei confronti della opera sua, sia meno potente che lo scrittore dei libri gialli nei confronti dell'opera sua. Avremmo un Dio onnipotente, meno potente dello scrittore dei libri gialli, se andiamo a valutare le loro rispettive opere. Il creatore divino sta al suo mondo reale in modo maggiore o uguale a come il creatore reale dei libri gialli sta alla sua opera. Non c'è una uguaglianza qui, perché da una parte abbiamo un creatore assoluto, dall'altra parte abbiamo un creatore relativo. Allora, il creatore assoluto sta alla sua opera relativa in modo maggiore o uguale al creatore relativo per come sta nei confronti del libro scritto da lui. Allora, una volta che si è capito questo, che è semplice da capire. Cosa va capito ancora? Che allora noi, che sembriamo gli artefici della nostra storia, così come nel libro giallo i personaggi del libro giallo sembrano i soli autori della loro vicenda, come loro noi pure siamo fatti totalmente da il creatore e il vero mondo libero è il mondo del creatore. Per cui la vera vita è la vita del creatore e non la vita disegnata dal creatore nelle nostre vite. Se non arriviamo a ricondurre alla vita del creatore la sua opera, che ha voluto essere opera di creazione e generazione di vita, noi restiamo infognati in un mondo reale e crediamo che non ci sia altro che questo nostro nostro mondo reale. Non arriviamo nemmeno a sapere in che dimensione possa esistere il nostro creatore. Invece, se paragonate la creazione del nostro mondo a quella del libro giallo, allora arrivate a capire che come a monte della storia scritta nel giallo c'è la verità di un creatore e che la vera vita è la vita di quel creatore lì e non la vita che scorre nel romanzo, così dovete arrivare a credere che la vita che scorre in apparenza nella nostra vita, vita non è, a meno che noi non arriviamo a voler salire, risalire alla dimensione del creatore, facendoci il creatore. Perché se io sono fatto dal mio creatore, tutto il mio essere è l'essere assunto dal creatore nel mentre mi crea. Perché il personaggio dell'assassino nel libro giallo è nella vera esistenza, tutto il tempo, dei minuti, delle ore che il creatore ci ha messo per infondergli pensieri, parole e opere. La vita dell'assassino non c'è, è virtuale, ma è reale nella vita che il creatore, lo scrittore ci ha messo per disegnarlo e scrivere di lui in quel modo lì. Allo stesso modo la mia vita reale non è la vita reale mia, ma la vita che appartiene al mio creatore che ci mette tempo della sua vita per far esistere la mia vita. Allo stesso modo in cui lo scrittore di Gialli ci mette le ore per scrivere i personaggi e dargli vita. È semplice da capire e allora si capisce che nella storia della salvezza, nel raccontino scritto da Dio e che è il nostro mondo reale, a un certo punto il creatore si è voluto presentare. Come poteva presentarsi il creatore dentro il suo libro reale? Ci poteva mettere la sua faccia? Se nel libro giallo, a un certo punto, lo scrittore del libro giallo vuole entrare in scena, cosa fa? Mette la sua testa nel libro? Non ci riesce. Deve descrivere se stesso nel libro e assegnare a un personaggio del libro la rappresentazione dell'autore. Non sarà mai l'autore nella sua vita, se non come causa della vita, che avrà dato a un personaggio a cui avrà dato la funzione di rappresentare se stesso. Immaginate che a un certo punto il creatore voglia mostrare la sua faccia in quel libro. Cosa fa? Ci mette stampata una sua fotografia. Ma è forse il creatore? No, è una immagine virtuale, esemplare, che vi descrive il creatore. Ma sarà sempre e solo una descrizione e mai la vera presenza del creatore umano che resterà sempre l'autore, ben distinto dalla sua opera, nella quale egli non potrà entrare mai. Invece, nel nostro mondo reale, creato da Dio, grazie alla onnipotenza di Dio, Dio si è potuto calare di persona, assumendo un personaggio, in ciò che è Dio. E che cosa è Dio? È la verità che è a monte del libro. È la verità di creazione in se stessa e si cala nel libro. L'onnipotenza di Dio è capace di animare quel libro, perché noi ci vediamo animati. E anche noi, quando leggiamo il libro, non è un libro animato. È un libro che noi animiamo leggendolo. Ci mettiamo noi la nostra animazione. E quelle parole scritte nel libro giallo, che sono semplici macchie, hanno la capacità di accendere idee di mondi allo stesso modo in cui si accendono questi mondi, in altri modi, attraverso quella che noi chiamiamo la realtà. Noi riceviamo dalla realtà alcuni input attraverso i nostri sensi e la vediamo. La realtà che diventa viva in un libro è quando noi non riceviamo l'input reale, ma soltanto simbolico attraverso certi segni che hanno tuttavia la capacità di accendere lo stesso pensiero, la stessa immaginazione. tanto che quando nel libro è descritta una opera, noi la seguiamo vivendone l'animazione grazie alla nostra animazione. Vedete, il libro del nostro autore reale resta sempre una cosa inanimata. Invece il nostro libro reale, proprio grazie alla onnipotenza di Dio, diventa un'animazione in se stessa. Non è un fermo quadro che noi possiamo vederlo e sbizzarrirci con la nostra interpretazione e la nostra fruizione. No, è un'opera viva, dinamica, diveniente e questa è la animazione datagli da un animatore. Allora a questo punto dobbiamo sostituire al libro un fumetto, un cartone animato, perché nel cartone animato non abbiamo un libro da leggere, ma abbiamo immagini da vedere e quelle immagini da vedere sono viste nel movimento di personaggi che non esistono, ma che sono animati dal creatore. E allora noi passiamo all'opera di un creatore simile a Walt Disney, che crea Pippo, Pluto, Paperino, Gambadilegno, personaggi buoni e cattivi, geniali o no, e gli dà vita continuamente perché i personaggi non si muovono se non sulla base dei disegni che a uno a uno il creatore li fa e l'opera si anima. Quindi questa animazione esiste, la possiamo vedere, diventa una opera visiva in movimento e abbiamo il cartone animato dal creatore, ma ancora una volta dentro quest'opera non c'è l'essenza di una anima di un paperino che si riconosca essere paperino. C'è l'oggettività di un paperino cui noi diamo anima di soggetto animato, invece in noi c'è proprio il creatore, che nella sua anima è l'anima in se stessa di noi che ci vediamo animati da dentro. Questa è la differenza che passa tra noi, che siamo oggetti che si vedono da dentro e dunque diveniamo soggetti in una condizione di un io sono chi, chi sono, simile a Dio, a immagine e somiglianza di Dio, perché Dio è io sono chi sono e io, io pure sono chi sono. E allora dentro il nostro disegno che è una riproduzione della vita c'è la verità di Dio, ma un Dio in croce nel limite che ha assunto in una opera che non è decisa là per là dagli interpreti che diventano creatori, no, la creazione è sempre e solo appartenente a un volere unico che si scinde in una moltitudine di apparenti voleri sempre in lotta tra di loro, tanto che l'animazione riguarda soggetti che cercano la loro buona sorte, ma mentre sembrano ancora autori della loro opera, non sono gli autori della loro opera, sono un Dio impotente di creare opera, ma totalmente libero nella sua essenza, tanto che mentre osserva l'opera e la fa sua vuole, indipendentemente dall'opera vuole e vuole fare, vuole agire, vuole giudicare. In questo c'è il libero arbitrio che Dio assume scendendo nel mondo reale, vuole fare di testa propria, come un figlio vuole fare di testa propria, anche sapendo il padre suo che cosa vorrebbe che egli facesse. Un figlio che si riscatta dal padre nel suo gusto personale, ma che deve accettare, proprio nel disegno di Dio, di riconoscersi infine della stessa sostanza del creatore, perché questa è la verità. L'uomo che esiste qui, in questa avventura, è solo opera divina, non è creato nella sua anima, perché la sua anima è l'anima del creatore che assume una parte delimitata in quel personaggio, ma che è lo stesso creatore che assume la moltitudine totale di tutte le parti. Io, per sostenere la verità di questo, mi rifaccio a questo punto a Gesù, che dice che tutto quello che avete fatto a uno qualunque degli uomini, lo avete sempre fatto a Dio. Gesù è chiaro, e perché dice che tutto quello che è fatto all'uomo, piccolino, è fatto a Dio? Perché nei confronti del creatore c'è un modo solo per dargli retta, non rivolgersi sterilmente al creatore per lodarlo, ringraziarlo e ridursi a un puro rapporto pieno di gratitudine tra l'uomo creato e chi lo ha creato. L'uomo si deve dimenticare addirittura di questa condizione. Deve divenire a sua volta il creatore di bene per gli altri. Deve cessare di guardare in alto se vuole vedere in alto, perché vede in alto solo quando egli vede in basso, perché egli è il creatore nell'opera e come il creatore dall'alto genera il bene per chi sta in basso, così si deve mettere anche l'uomo a fare il padre di tutti gli altri e se non diventa in ciascuno il padre di tutti quei poveri disgraziati di figli che muoiono per la fame, per la sete, per ogni cosa e non tratta tutti da padre, se non lo fa, non rispetta il volere del padre, perché il volere del padre è che ciascuno si faccia padre di tutti gli altri, perché questa è la nostra verità, noi siamo il padre, ma è un padre che si è calato in una vita secondaria, perché ogni uomo voglia essere il padre nei confronti di tutti gli altri. Ecco, è semplice da capire. Ora, se in duemila anni Cristo non è stato capito al punto che a un certo punto, mossi dalle strane idee di dover fare quello che Dio non ha voluto fare, perché ha detto non lo faccio io perché lo dovete fare voi, l'uomo si è messo addirittura in testa che doveva uccidere tutti gli uomini di fronte a una strega o quella accettava di rinunciare a Satana e di abbracciare Cristo e se non lo faceva la uccidevano. Una roba mostruosa, tanto da portare a dire che quelli che credevano cristiano questo, scambiavano Dio, scambiavano il padre per Satana e lo credevano Dio. Allo stesso modo, fanno oggi certi islamici che, assetati dalla stessa sete di conquistare a Dio le anime, operano uccisioni se quelle non si convertono. Siamo alle solite, i più che non capiscono sono i più stupidi e questo mondo è dominato dalla stupidaggine di coloro che, credendosi potenti, invece di usare la loro potenza per il bene dei sottomessi, si fanno mantenere, sostenere a spese dei sottomessi e puntano solo alla loro glorificazione. Dio non è così, Dio non vuole essere eletto il re. Il re di questo mondo è Satana. Dio è l'anti-re. È un re che, pur essendo re, scende e si mette sotto l'ultimo dei sudditi e gli dà vita. È come il sole che splende sui buoni e sui cattivi. Questi è Dio. Non è uno che detta legge per essere servito, che detta legge e crea dei subalterni per riceverne l'applauso con costoro che credono che sono a posto quando lo applaudono. Ecco, caro Giovanni Bizzotto, io dico cose semplici da capire, ma sono tanto complesse che nel corso di duemila anni, perfino coloro che hanno inteso attuare la volontà di Gesù Cristo, sono arrivati ad attuare non la sua verità e la sua volontà, ma l'opposto esatto della sua volontà. Se in duemila anni questi più illuminati, che credevano di essere più illuminati, non hanno capito, credi che sia facile io in un semplice video a far capire che sia facile? Io per far capire devo spiegare in un modo talmente rigoroso che la verità sia lampante, ma visto che Dio non l'ha voluta lampante questa verità, ma solo come il risultato di una faticosa ricerca, ecco che quando la verità finalmente arriva è così complicata da conoscere, come la struttura di tutti gli organi interni a un'automobile, che non implica che per guidarla uno la conosca. Uno sale sull'automobile, se sa sterzare, frenare, accelerare e non esce di strada e mantiene il suo percorso, sa guidare. Stop! Ma quando si arriva a un pericolo nella gestione dell'auto perché non si conosce bene esattamente come funziona l'auto, è necessario spiegare che cosa succede dentro un volante quando tu fai così e allora devi parlare di ingranaggi, di questo e di quell'altro ed è difficile da capire. Ma se uno vuole che si capisca cosa succede in un'automobile quando tu freni, bisogna farsi il paiolo così e mettersi a studiare quella materia. Perché fino a quando non si è capita, ma tu, caro Giovanni Bizzotto, vorresti che io spiegassi semplicemente come si debba condurre l'automobile senza arrivare mai a spiegare che cosa succede quando freni, quando acceleri e quando diversi. E no, il compito mio è proprio questo. È difficile perché bisogna finalmente spiegare quello che mai è stato spiegato dalla scienza, la quale non è riuscita mai a spiegarti chi sei tu che conduci quella macchina, da dove vieni, dove vai, non ha saputo spiegartela pur essendo la scienza. Io ho questo compito che supera di gran lunga la scienza. Perché la scienza, nonostante i geni sommi degli scienziati, non ha saputo spiegare chi è che guida la macchina, da chi viene, dove va, com'è il percorso totale della vita. Ed è rimasta infognata in questa vita reale scambiandola per la vera vita. La scienza, secondo questa idea scientifica, è la cosa più idiota che possa esistere. Perché scambia la azione divina in questa opera reale che prescinde dall'opera divina. Vede in atto la crescita in positivo, ma non è capace di accorgersi che cosa significa il terzo principio fondamentale di azione e reazione. E allora io devo spiegare a costoro dopo che Gesù Cristo ringraziò il Padre per non avere spiegato ai sapienti e avere spiegato invece in modo semplice come si conduce la macchina ai semplici, ai poverini, a coloro che non avevano la capacità di sapere come funzionavano gli organi della macchina. Ma potevano benissimo salire su quella macchina e saputo come e che cosa succede quando sterzi, quando freni e quando acceleri, via, andare nel traffico. Gesù ringraziò Dio di avere reso così facile guidare la macchina che coloro che sono semplici sono tutti contenti e di non averlo spiegato a coloro che non sono e non si accontentano, non sono paghi se salgono in macchina e frenando, accelerando eccetera la conducono, ne vogliono sapere di più, non si accontentano. Gesù ringraziò Dio perché c'erano una quantità di persone che si accontentava di quel semplice compito e di non averlo spiegato a quegli altri perché altrimenti i semplici non avrebbero più capito un tubo di come si guida la macchina. Ecco, io sono semplice ma le cose che io devo spiegare non lo sono, non sono mai state capite in duemila anni, il vero colmo sarebbe se comincio io e in tre parole io lo posso spiegare.